Nello spot di Ala, intanto il tiro da tre punti, l'errore e il rimbalto di Jackson con l'Umana Reier che può mettere la prima volta il naso avanti, lo scarico, va Spencer Nelson, la bomba di Spencer Nelson, ecco il suo tasso. Non arriva la difesa perché è la sua McGee che segna da tre punti il canestro del nuovo pareggio, questa volta a quota 32, quando si avvicina alla metà va da tre punti, Spencer Nelson, non c'è veramente soluzione di continuità stasera. Il Gos che trova a Vigiano, piedi per terra, vediamo se c'è il tiro a tre punti, no, niente, non è la sua serata al tiro ma oltre il rimbalto e poi un'altra grande azione con Spencer Nelson, lui sì che è in serata nel tiro pesante. Sì, tra l'altro, bene abbiamo 10 su 24 però abbiamo sia Nelson con 100% dalla lunga, sia Gos che è un 4 su 4. Davanti il pallone Gerius Jackson ovviamente deve aspettare per entrare in campo Thomas Ress, Spencer Nelson sotto, grande assist, sai che forse Spencer Nelson porta via l'MP a Gos che comunque segna, ma siamo lì insomma Andrea. Per l'umana Reier, dopo appunto il canestro di Phil Goss, il pallone nelle mani di Jeff Vigiano, poi Ress, ancora Nelson che va via in velocità e schiaccia, e qui ci stiamo avvicinando. Effettivamente sta acquisendo punti. Con Campbell, linea di fondo, bello rovesciato, l'errore, il rimbalzo da parte di Hunt che poi sbaglia incredibilmente, l'appoggio al tabellone, il rimbalzo di Ress per Stone, bello per Nelson! Ed è Stone, diciamo che sta guadagnando la pagnota con gli assist, Stone siamo già il quinto assist.